C'è un detto, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma chiariamo, noi non siamo gli assassini, non mi ricordo se venti giorni fa o un mese fa c'è stata una frana, eccola lì, beh voi pensate che in uno stato che sia moderno queste cose vanno risolte in poco tempo, anche perché questa è una strada transitata da migliaia di auto. E' trascosto quasi un mese interventi, ecco qua, una colata di cemento per mettere in sicurezza con chiaramente dei blocchi di cemento e una palizzata di ferro per delimitare la frana. In 21 giorni noi abbiamo avuto l'attività di sondaggio, tutto qui, è stata fatta l'attività di sondaggio, abbiamo scoperto che la roccia è a 4 metri e abbiamo, come dire, il sondaggio del territorio, diciamo è come se avessimo acceso il computer, adesso dobbiamo fare tutto il lavoro, questo testimone è il fatto che, come avevo avuto modo di dire all'epoca, ci vorrà tempo per aprire la strada, ovviamente noi adesso stiamo pagando tutta una serie di servizi, io nei prossimi giorni cercherò di chiudere anche un accordo con le società concessionari dei mezzi di trasporto, del trasporto pubblico e perché abbiamo dei disagi anche sul territorio, perché ovviamente di fronte a una situazione del genere nessuno si assume il rischio di passare su una carreggiata che impegna una frana così evidente. Come fa un sindaco a sopravvivere con l'idea di una situazione di pericolo in atto, che non è più potenziale ma che è già in atto e quindi ha assolutamente il dovere di prendere tutte le iniziative necessarie per poter difendere l'incolumità dei cittadini. Spero che la provincia voglia ulteriormente accelerare perché effettivamente questa non è una situazione normale. A parole siamo tutti bravi, però qui non arriva nessuno. Un Natale con il fosso? Sì, sicuramente, sicuramente non ci sarà alternativa, è impossibile che l'intervento venga fatto prima di Natale. Io dissi che ero disponibile a pagare una cena, se si ricorda. Posso anche ulteriormente scommettere fino al 31 gennaio? Non ce la faremo.